Grazie. Se sentite che il vostro palco è attivita la piedra e la traccia di Erippi da 6 a 7, mi dico che non ci prendiamo. Taccate le mani e lasciatelo per il piede. 10 secondi ragazzi, è ancora. Ma lo dico, lascia, 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 lasciate, voi siete di, come si chiama, di cilindri, ok, se vedete le colonne anche lì, con le armi, mi sono aperta dritta, si può trovare la gola? La genocchia. La genocchia. Sempre la genocchia. Forza ragazzi, forza ragazzi. Stai andando con la traccia. Un po' tostio. E' disazzionato. Bravo, bravo. Questo è... Un po' tostio. Un po' tostio. Un po' tostio. Un po' tostio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 se lo mettete a noi va in questo caso più in giù, torpisce il centro, stanti al tattolo, condividete i capezzoli, quindi quando avete il kite non fate in modo che il dobbio sia più fuori del polso, è sempre il polso più fuori del dobbio, la spalla di spalle, quando abbracciate la parte legge delle mani deve essere almeno indice, anulare e pollice, almeno, la zona di impatto è il corso della mano nella parte da indice in medio, esercizionano giustifici di turi, ok passiamo al tool, in questo caso mi raccomando il tool è più profondo del tool e rompe all'altezza del tanker medio, perché è un gesto ostensivo, bene, le dita ragazzi, vedo dita moschè, dita moschè, ok, keep on good, start that, su, mettete giù la braccia, strappano la destra, su le braccia, ancora 30 secondi, forza ok, stop ragazzi, andiamo sulla parte tecnica che di questo è fare quindi mi devo trovare in diagonale se vi trovate in altre posizioni fa schifo, non funziona, non va bene la cosa che mi interessa è che non facciate mezzo giro, mezzo anello deve essere un giro brutto e stretto è uno, è un movimento solo è il quante porta al movimento uno ok, la gamba avanti se vedete il mio ginocchio non le ho mai rilassate indietro è sempre con 10 in avanti perché mi serve nella fase di uscita a infilarlo, quindi è scuro ok, questo devi infilare dentro e taleggiare in su e giroge di tiocca con la gamba al piede perché ci spaga nel momento in cui ho fatto questo la persona sta ancora lì non c'è più ok, vai andiamo, andiamo veloci ragazzi schiena dritta, mantenete la schiena dritta e mi raccomando l'apertura del piede rispetto alla gamba per ti dargli tiocca deve essere sempre di 45 gradi mi devi dare conto di avere stabilità col ginocchio adesso non potete essere ginocchia per il consumo quindi non potete essere grazie a tutti 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 Grazie a tutti